Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Terratech Ve l'avevo promesso da chissà quanti episodi e finalmente oggi lo andremo a fare ragazzi Proveremo e sottolineo proveremo a fare un robottino capace di volare, un aereo insomma in poche parole Per cominciare ragazzi non andremo a usare questa cabina ma andrò appunto a comprare una di quelle cabine dell'Adventure Che madonna mia quanto cavolo costa Allora ci sta per terra, si ok perfetto ci sta Ah ma quindi, ma me lo stava per risucchiare quel coso lì Quindi in teoria posso, oh dio ma quanto, si vede proprio ragazzi che questi qui sono i robottini veloci Guardate quanto cavolo è veloce, mi devo fare anche 360 Totalmente a caso, ok Sì magari devo stare un pochettino attento perché è bello e veloce ma si ribalta anche No ragazzi non riesco a controllarlo, è una cosa assurda Appare che non devo per forza stare vicino alla base, posso anche stare un pochettino lontano ma chi se ne frega Allora cominciamo a mettere un pochettino dei blocchi così a caso Perché appunto deve sembrare un qualcosa, ripeto sembrare qualcosa che possa volare Poi passiamo subito alle cose che vanno assolutamente fatte Allora intanto non lo voglio fare troppo piccino quindi penso che farò, lo farò tipo triplo Una roba simile che mi ispira abbastanza e poi scopro che mi mancano i blocchi Quindi ragazzi andiamo a comprare, intanto siamo più o meno ricchi e sottolineo più o meno Quindi ne prendo tanti, quanto ci spendo così potrebbe andar bene Cerchiamo subito di prenderli da qua Così almeno ce li mettiamo instant E vi faccio subito vedere appunto come lo volevo fare Che io ragazzi non ho ancora testato niente, non so se funzionerà mai una roba simile Io spero di sì, non lo so proprio, non lo so Allora in cima volevo metterci una singola ruota perché mi ispira tantissimo Ora, vediamo se perlomeno funziona B Ok E' strano Sì, è molto strano Perché in cima è alto Però dietro è parecchio basso Vabbè in teoria dovrebbe semplificare tipo un decollo, una roba simile Non dovrebbe essere tanto male come idea Comunque continuiamo Allora, siccome mi serve un radar Che appunto il radar va messo ovunque Si mette subito, almeno vediamo subito se sarà vicino a qualcuno Mentre stiamo costruendo Che non è affatto male Siccome saremo in volo A noi ce ne fregheremo totalmente del fatto lì di avere tipo una bolla rigenerante enorme Oddio, forse potremmo usarla anche a piccola Ma ho paura che pesi veramente troppo Lightbar potremmo metterli magari sotto Si possono mettere sotto Sì, si possono mettere sotto Perfetto Così ragazzi diventa anche tamarrissimo Guardate con la luce il led sotto tamarro Tipo lo voglio mettere nelle macchine Questo è un booster Ma è un booster enorme Ok, quindi il booster enorme si mette dietro Poi abbiamo i booster Quelli invece un pochettino più piccini Ah intanto io devo metterci delle batterie Ma noi abbiamo delle batterie di questa mod Cioè di questa mod Sì ciao Di questo robo qui oppure no E questa è la domanda Perché queste qui sì ok Possono funzionare tipo per i booster Ma come batterie per tipo i generatori non ne ho la minima idea E infatti non va E infatti non va Questa qui non è energia Questo è semplicemente le tanniche di fuel Quelle per i razzi Quindi comunque dovrò utilizzare le batterie Che poi sia chiaro Probabilmente esistono pure le batterie Oh lo stabilizzatore Eh beh nell'aereo penso possa servire in effetti Ehm vediamo un pochettino cosa posso metterci Allora le batterie ci devo mettere sempre quelle normali Perché ragazzi quelle dell'aventure Non so nemmeno se esistono E comunque in tal caso non le ho nemmeno trovate Quindi chi se ne frega Poi andiamo tipo a metterci un pochettino di booster dietro così a caso Ehm tre penso possono andare bene E ci mettiamo anche un po' di tanniche Le posso mettere anche di lato? Sì perfetto Di lato non Cioè di lato non le disprezzo Mi piace abbastanza Sì ci può stare Le ho messe un pochettino male Perché tipo questa qui la volevo mettere Cosa sto facendo? Allora mi avete detto col destro Proviamo a girarle Ok perfetto Con la luce verso l'alto è un pochettino meglio Tu dove stai scappando? Torna qui Ok perfetto E così già dovrebbe andare abbastanza bene Ora Sta scappando? No che non scappa più Andiamo qui nei cosi per appunto fare gli aerei Allora c'è l'aereo coso qua Che va a tagliare appunto l'aria E va messo al posto di uno di questi razzi Ragazzi perché la roba mi sta volando Tre chilometri più in là? Questa è una cosa che veramente non capirò mai Allora Un pezzo l'abbiamo messo Un pezzo l'abbiamo messo Ok vediamo se posso metterla anche di qua No perché va girata Ma perché? Ah questa è left Ah right eccola qua Perfetto Perché appunto se avevamo soltanto una E non andava bene per niente Non so sinceramente se possa volare A livello Cioè non dovrebbe funzionare in linea teorica Una roba così Perché è veramente fatta male Una turbina Ma La turbina Cima Ah no ma occupa due blocchi Questa roba qui La turbina Beh per ora non la metto allora Per ora non la metto Perché andrebbe a occupare troppo spazio E sinceramente non mi va di Usare un robo così grosso E poi La batteria La batteria che ci devo mettere Assolutamente quelle normali Perché non ne ho assolutamente altre Quindi vediamo dove stanno Eccole qua Ce le metto Una così a caso Madonna che bolla Che fa Ho paura Ho paura a provarlo Soprattutto perché Precipita Non ha Non ha l'ala in cima Cioè non ha il coso che gira in cima Quindi precipita sicuramente Un robo così Dovrei mettere tipo Un qualcosa che Perché ragazzi Fidatevi Io praticamente ho i booster E quando premo Lo shift funziona Ma quando non lo premo Perché magari si scarica Smette di volare Io spero plani Ma se non dovesse planare È la fine Perché tipo Muore questa roba Veramente muore Quindi Cosa ci posso mettere Non ne ho la minima idea Non ne ho la minima idea Ce l'avevo da qualche parte Il coso che girava Ma che fine ha fatto Non lo so È vero Che fine ha fatto Ma che fine ha fatto Forse era nell'avventure Ah eccolo qua Infatti Eccolo qua E non lo posso Non lo posso mettere Che va verso l'alto Magari ci posso salvare Veramente in certe situazioni Però Per il momento Vorrei metterci magari Dei blocchi Intanto Prendiamo tutti i blocchi Dell'avventure Perché io non sto capendo Assolutamente nulla Così come siamo messi ora Ok Che è tipo un blocchettino Così in alto Non so ora se posso Metterlo anche in quello di sotto Però comunque Siccome non ho voglia Di perderci troppo tempo Ma che cazzo sto facendo Allora Andiamo subito qui E mettiamolo qua Allora in quello sotto Non posso In quello sopra invece sì Allora Io ripeto Non penso funzioni Una roba simile Però comunque Ci si può provare No 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 Mi schianto Mi schianto Mi schianto No 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 Sto rigenerando cose Sto rigenerando cose Ok allora No ma che cavolo No ragazzi aspettate Aspettate C'è qualcosa che non torna qui Sto anche strusciando per terra Allora Andiamo Io ho paura Non so nemmeno come alzarmi Perché tipo Non so cosa devo usare Le freccettine Ah no le freccettine fanno come WSD Ok quindi Il boost Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio No 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 Ti prego ti prego Non morire Non morire Non morire È vivo È ancora vivo Possiamo volare E così sta prendendo velocità Ok Ok no ma Ma non funziona proprio così Mi sa Beh fa Fa un po' schifo Sinceramente No 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 C'è un nemico qua vicino E non ho armi Io non ho armi Allora L'importante è fare qualcosa Che riesca a volare E per il futuro Poi si vede Le armi E tutto il resto Io sinceramente ragazzi Non lo so Perché tipo Quando premo shift Come potete vedere Decolla Perché prende forse Abbastanza velocità Forse è troppo pesante Guardate è un po' un casino No 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 Non gira nemmeno Ragazzi non gira Cavolo questo è un problema Se non gira Dio mio Però però è figo È figo Perché la batteria Non ne ha consumata Poi tanta Ci sta ragazzi Ci sta No Cavolo Ogni tanto devo fermarmi Perché veramente Se no si schianta tutto Qui e fa un po' Reddolo di danno Allora ripassiamo qua Dalla base Che per ora a terra Si Si governa abbastanza bene Allora facendo così Mi incastro Mi sono incastrato Ok robottino Tu levati di torno No Ragazzi sto a spaccare tutto Sto a spaccare la mia base Il punto sapete cos'è Guardate Se premo W Comincia a girare l'elica Però Dopo un po' Quando si stacca da terra Smette di girare È questo problema Guardate No ma Se smettessi di schiantarmi Anche non sarebbe male Come idea Vedete appena Appena si stacca da terra Smette di girare Non capisco il perché Invece se premo shift Ovviamente va Che roba No 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 Però è figo Raga quanto è figo Ma non gira Guardate Inara non sta girando Forse Forse è colpa dello stabilizzatore Che ce lo fa Rimanere stabilizzato Forse lo stabilizzatore Serve per eventualmente Degli elicotteri Che Forse l'elicottero Lo posso fare Con questa roba qui In effetti Se io premo tipo così E poi si riadrizzerà solo Quindi forse è quello Che funziona A che serve lo stabilizzatore Però No 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 Ok 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 Non è male Non è male Forse Potrei provare a metterci più ali Tanto questo episodio qui Ragazzi si fa così a tentativi Non è un episodio Che sarà utile Diciamo per Per cose così Però diciamo Per il futuro Potrebbe veramente tornare utile Allora Se visto che effettivamente Questa cosa qui Non serve più di tanto Quindi sinceramente Non so se continuare a utilizzarlo Oppure no Comunque Siccome appunto Volevo provare questa cosa Io Voglio assolutamente Intanto Spostare questo qui Un pochettino più indietro Perché mi sta dando noia Il rumore Delle cose che si rigenerano Deve esplodere Non deve esplodere Poverino Lo amo tanto Qualcosa lì Comunque allora Deve assolutamente Metterci I blocchettini Altri blocchettini Della Venture Che Eccoli qua E Ci devo provare a mettere Altre ali Forse E ripeto Forse È troppo Sproporzionato In avanti Però c'è sempre Un rimedio Allora così Ragazzi Questa qui è una cosa Tattica ovviamente Io faccio soltanto Cose tattiche Come ormai si sa Mi servirà Ve lo farò vedere Tra pochissimo Cosa ci voglio assolutamente Fare Quindi Devo prendere Altre ali Tipo questa qui Che è la destra Quindi dovrebbe stare Tipo qua E poi L'altra sinistra Che non si sa perché Di sinistra ne ho una di più Vabbè Che se ne fegato Nemmeno ne posso comprare Queste qui se non sbaglio Quindi non devo assolutamente Sprecarle E poi Dove sta L'elica La metto qua in cima Un'elica E levo altri due blocchi Così pesa Leggermente Ripeto Leggermente di più Però in teoria Dovrebbe essere meglio Quindi metto la ruota Un pochettino più in avanti Così dovrebbe andare bene E Io Provo a fare un volo Con questa roba qui Che Li manca un pezzettino Perché ti manca un pezzo Perché dove si è finito I blocchettini Eccoli qua Ok E poi questi qui Oltretutto non so cosa sono Cosa sono quelli dove ci vanno Le ruote sotto Mi sa di sì Non lo so Comunque si proveranno in futuro E poi ragazzi appunto Volevo provare a metterci Le turbine Quelle altre Che appunto Non abbiamo ancora provato Quindi Andiamola a provare così Che comunque ripeto È troppo basso Verso il dietro Quindi struscia il pezzettino lì Non è che sarebbe il top Sta volando Ah ok così va a me Uh Funziona quasi quasi Però Tipo appena Ovviamente si stacca No No Quanto siamo in alto Oh mio dio Ora ci schiantiamo Ora ci schiantiamo Però Ci siamo schiantati Ma non prendiamo molto danno Perché anche se prendiamo Sì il danno lo prendiamo comunque Però Il giusto E appunto si rigenera Proviamoci No Ok 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 L'elica però veramente Non serve a nulla È tipo la cosa più inutile Al mondo E mi danneggio tantissimo Ok a questo punto Se a quanto pare Serve soltanto Per cominciare Il decollo Non serve ad altro Veramente Quindi quasi 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 la levo O magari se non la levo No Per ora la levo Perché bisogna fare Questo tentativo qui E poi appunto Voglio provare a metterci Le altre Che non mi ricordo Cosa cavolo fossero Tipo Stavano Da qualche parte Qua Eccoli qui Madonna Ma non c'entrano nemmeno Mi sa che mi tocca Metterne una qua Però dovrebbero stare Dietro in teoria Queste qua Non davanti eh Ah no Le posso mettere anche di lato Uh Che roba ignorante Ma tocca Ah non toccare meno Per terra così Però cavolo Tutto il peso su una sola ruota Mi sa che No regge Regge Vediamo Oddio Che figata Io spero funzionino Anche quando sono tipo Lontano da terra Queste qua Ok non si schianta nulla Con questo qua Quando vado a colpire gli alberi L'altro si schiantava tutto Madonna Vediamo Mi incastro di continuo Come al solito Ma perché Si incastra Va indietro Ok proviamoci ora Si funziona No ma si stacca anche questo Ma guardate Una volta che tipo No ma non funziona Perché una volta che Cavolo Una volta che si stacca da terra Smette di funzionare tutto Questi qui sono blocchi buoni Per andare veloci Quando siamo perlomeno a terra Ma quando siamo in area Non servono a nulla Perché se tipo Io la faccio così Come si può vedere E non sto prendendo nessun altro Pozzante tipo i booster Va velocissimo E appunto Comincia anche a decollare A una certa Perché appunto Ha le ali E va veloce Quindi ecco Decolla ovviamente Però non Non capisco allora Come si faccia a volare Perché vedete Ok se uso il booster È tutta un'altra cosa Il booster così Posso anche volare Sia chiaro E se è chiaro Se metto tantissimi Tanniche Forse riesco anche a fare Un volo abbastanza lungo Infatti come potete vedere Sono riuscito a volare In modo abbastanza decente Da qui a laggiù E ci stava come cosa Però Non era uno di quei voli Che insomma Ti Ti levano la soddisfazione Di volare Perché Soprattutto con queste cose qui Che in effetti Ecco Soprattutto quando mi incastro Tipo in questo momento Mi tornano benissimo i booster Guardate ragazzi Queste cose qui Veramente vanno a pesantire E Boh Io il loro scopo Sinceramente non lo trovo Quindi per ora Provo a fare così Levo di nuovo tutto No 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 La ruota mi serve La ruota mi serve Devo andare in modalità Ok Costruzione Rimetto la ruota qua sotto Voglio provare a fare un test A questo punto Voglio vedere Quanto riesco a volare Con tutti i blocchi lì Che effettivamente Non mi servivano Perché ragazzi Facevano abbastanza schifo Però Sono andato al booster Senza nient'altro di extra Quindi proviamo un pochettino A parte che forse Ecco praticamente Decollo anche così Perché va già abbastanza veloce di suo Dio mio Ok E' un po' ingovernabile Devo dire No io Io non capirò mai Non capirò mai Come si fanno gli aerei Però Comunque Un tentativo L'abbiamo fatto E devo dire che non abbiamo proprio fallito Perché Effettivamente Volevamo fare un aereo Qualcosa che volasse E non si distruggesse Non si è distrutto Infatti non abbiamo rotto nemmeno un blocco E siamo riusciti più o meno a volare Quindi ragazzi Ora vi faccio una domanda a voi Secondo voi Cosa ho sbagliato? Perché non vola? Perché ogni volta che si stacca la terra Si mettono di funzionare Le turbine I reattori E robe varie Ma vanno soltanto i booster Come potrei fare A farlo volare Per farli fare un volo decente? Ragazzi Se lo sapete Ti rimelo voi con un commento Io comunque continuerò a informarmi Anche se effettivamente Penso che nel prossimo episodio Comunque Andrò a rifare il robottino Della Della Geocorporation Appunto per far male Che sta laggiù morendo Comunque ragazzi Siamo riusciti più o meno a volare Il nostro obiettivo L'abbiamo raggiunto Io spero che questo video Leggissimo vi sia piaciuto E quindi Ciao a tutti Ciao a tutti